Lascia mi piace se ami il Napoli E wa you? Ciao! Benvenuti e bentornati sul canale di SuperAlan Siamo qui oggi con un nuovo video Oggi si torna allo stadio Diego Armando Maradona Come nostro solito per le partite in casa del Napoli Oggi c'è Napoli-Atalanta Quindi reaction direttamente dallo stadio Come vedete non solo solo C'è Francesco, il mio follower che ha vinto il biglietto Questa settimana per venire allo stadio con me Quindi mi raccomando seguitemi anche sull'altro social Su Instagram, vi lascio il link in descrizione Per sapere come poter partecipare e vincere un biglietto Per venire allo stadio con me Ma you, scorsa partita non è andata benissimo Lo sappiamo, contro la Lazio Oggi è l'Atalanta, un avversario molto tosto Speriamo che Gasperini non ci fa lo scherzetto Lasciate un bel mi piace, un bel commento Iscrivetevi soprattutto Arriviamo a 20.000 iscritti Entriamo dentro allo stadio Intanto c'è Kim vicino al muro Hanno fatto i lavori qua allo stadio Ma c'è una sorpresa Guardate qui invece ragazzi chi c'è Il Pipita Aia Brividi per il nostro ospite di oggi Ti piace qua? È bellissimo Con questo momento Sul stadio di gioco Ci sono i Mazzoni Dai Dai raga Magna tavello Di qua l'Atalanta si allena Duvan Lex Pobravoc Magna Scef 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 Saluta Scef Scef Ci mancate Oggi fratelli polacchi Sanford Andiamo a lettura delle formazioni Cominciamo con la squadra ospite dell'Atalanta Scef 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 GAPOLI 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 GORI Giocatore Del mese Di febbraio Cambio improvviso nella formazione del Napoli Non gioca Meletti Gioca Collini Aia Vediamo Dai forza Gollo Che spettacolo Ripetere Le bandiere in curva Che bello Che bello Guardate là Guardate Casa Casa Dai 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 Manu! Vai, vai! Bella! Viste a Zumba Zulis, se vede a Zumba Zulis. Tira! 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 Tira, vai! Tira! Tira, vai! E... Ladrina! Guarda! Bella! Uoooo! Da sta ladrina! Questa è una scuola! E' un minato! Hai già dormito? Oh! Non c'è nessuno la madre! Non c'è nessuno! Tira! Nooo! E' 4-3! Oh! Ma chi era lo spot? Molitano, Maron! E ti portare a Nancy! Vai, vai, vai! Fino del primo tempo, Agliu! 0-0, più Napoli sicuramente, non ricordo, la sicurità parte dell'Atalanta, però è un po' bloccata per la partita. Speriamo per il secondo tempo, Agliu! Mezzo! Mezzo! Oh! 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 tiro tiu si si botari è maria è un marziano è un marziano è maria è maria è maria è un marziano è un marziano E' un marciano, e' un marciano, e' un marciano! E' un marciano, e' un marciano! E' un marciano, e' un marciano, e' un marciano! E' un marciano, e' un marciano, e' un marciano! E' un marciano, e' un marciano, e' un marciano! E' un marciano, e' un marciano! E' un marciano, e' un marciano, e' un marciano! E' un marciano! E' un marciano!